Ciao e benvenuto in questo tutorial su GitHub Actions. Io sono Michele e oggi vediamo i principi di continuous integration implementati in un workflow di GitHub Actions. E tu hai mai lavorato su GitHub? Qual è il tuo progetto preferito? Fammelo sapere nei commenti. Se questo video ti piacerà o imparerai qualcosa, mi raccomando, metti un mi piace e iscriviti al canale, così sarai notificato quando escono nuovi aggiornamenti. Ma andiamo avanti. Andiamo con ordine. Che cosa sono le GitHub Actions? Beh, le Actions sono quel meccanismo di GitHub che ci permette di implementare dell'automazione, o meglio, del workflow di automazione. Il loro utilizzo principale è quello di creare dei processi di continuous integration e continuous deployment o delivery, che quindi ci permettono di compilare, testare e rilasciare o distribuire gli aggiornamenti della nostra applicazione. Ma noi torniamo alle basi. Ci interessa la continuous integration, quindi quel processo che si occupa in maniera automatizzata di compilare i nostri sorgenti, testarli e dirci se sta andando tutto bene. Riguardo a questo ho fatto un video, che metto in descrizione un link, dove spiego la continuous integration e faccio anche un deployment. C'è un mini corso su Azure Pipeline, che è il fratello di GitHub Actions. C'è sempre Microsoft dietro. Ma facciamo un passettino avanti. Abbiamo detto le azioni sono quelle che permettono appunto di eseguire questa automazione. Sono i mattoncini base che messi uno dietro l'altro realizzano il nostro flusso completamente automatizzato per fare ciò che ci serve, in questo caso continuous integration. Le Actions sono organizzate all'interno di un contenitore più grande, per metterle in fila, chiamato workflow. Il workflow quindi è il file, è proprio un file che noi creiamo all'interno del nostro repository, in cui andiamo a definire una serie di cose, le Actions che andiamo ad utilizzare. Non solo all'interno di un workflow, andiamo a definire il nome, andiamo a definire i trigger, quindi quando scatta in automatico questo workflow, si può anche configurare che parta in maniera manuale, e per esempio delle configurazioni del tipo su che genere di runner viene eseguito. Il runner non è nient'altro che un ambiente di esecuzione dove il nostro workflow prende vita, quindi noi nel nostro repository abbiamo un file di workflow scritto in sintassi YAML che lo definisce, è la ricetta statica, ma quando viene eseguito ha bisogno di un ambiente di esecuzione, come la nostra ricetta viene eseguita un po' sul piano cottura e un po' in forno, quindi nella nostra cucina. Allo stesso modo il workflow viene definito in un file di testo nel nostro repository, ma viene eseguito in un ambiente di esecuzione che può essere Windows, Mac o Linux, e lo si definisce, poi vediamo dove, quando entriamo nel vivo e vediamo queste righe di YAML dove si definisce. Quindi può essere macchina Windows, Ubuntu o Mac. Per non perdermi nella spiegazione ho creato questo schermetto, quindi abbiamo gli eventi che scatenano gli eventi che scatenano un workflow, un workflow contiene dei job che sono un contenitore che ci permette di mettere in ordine le nostre action e scegliere gli ambienti di esecuzione. E' qui dove andremo a dire Windows, Ubuntu o, vabbè, Linux o Mac. E all'interno di un job andiamo ad utilizzare le action. Questo concetto vale per tutti i workflow che andiamo a scrivere. Vediamo questo esempio dalla documentazione e poi lo commentiamo un po' e poi in mani in pasta ne creiamo uno noi. Questo è un workflow, ok, qua viene definito il nome, node build, quindi una build di un progetto con node, il trigger su push, ogni qualvolta c'è una modifica su questo branch, viene fatto un push, parte il workflow, jobs, dove vengono organizzate le nostre action, quanti job abbiamo? Ne abbiamo uno solo, si chiama main build e runs on è l'ambiente di esecuzione, matrix OS. Questo qui stiamo vedendo un esempio già leggermente avanzato, ma ha senso perché ti faccio vedere le potenzialità di questa cosa. Poi quando metteremo le mani in pasta ne creiamo una molto semplice, però all'interno delle definizioni dei workflow posso utilizzare delle variabili o fare riferimento a dei valori che si popolano durante l'esecuzione. In questo caso la variabile runs on, il valore di runs on è preso da una variabile, lo vediamo per questa sintassi dollaro graffa, graffa. Significa che il suo valore è determinato mentre il workflow è in esecuzione. E da dove viene preso? Viene preso da qui sotto, vedi che c'è matrix, perché questo workflow si esegue con una strategia a matrice, cioè viene moltiplicato, viene eseguito tante volte quante definizioni di variabili ci sono qui dentro. Quindi qui per esempio abbiamo node version 12 e os windows latest. In questo caso verrà eseguito una volta solo, ma per esempio io avrei potuto dichiarare ulteriori righe per dire che voglio eseguirlo sia con node 12 ma anche con la 11, perché voglio essere sicuro che il mio progetto sia in qualche modo retrocompatibile. Potrei avere delle strane necessità. Quindi il valore matrix os che vediamo qui viene preso da qui, quindi quando viene eseguita una volta si prenderà windows latest. In questo caso verrà eseguita solo ad un giro perché nella matrice ce n'è una sola, ma ti puoi immaginare di vederne di più e magari quindi avere più valori anche di node version. Qui sotto abbiamo gli step che sono effettivamente i passi, quindi qui andiamo effettivamente a richiamare le actions. E che cosa facciamo? Facciamo qui c'è un checkout dei sorgenti, senza sorgenti non riusciamo a compilare niente. Facciamo il setup di node a una certa versione che è quella indicata qui. Poi che cosa c'è? Installiamo ed eseguiamo la build con npm, quindi npmc e runbuild. Ecco questo era un esempio con node con cui abbiamo commentato. Adesso entriamo nel mio computer e creiamo invece un workflow per tecnologia.net. Parto dalla mia home page di github.com dove ho già fatto login con il mio utente e voglio creare un nuovo repository dove mettere dentro il sorgente per un'applicazione che ho già e scrivere la github action. Non parto da foglio bianco, lo scopo qui non è imparare a usare github da zero o a scrivere un repository da zero, ma che cos'è una github action e come funziona. Quindi parto da un progetto che ho già nel mio azure devops personale. In particolare da un progetto open che è un mini corso per comprendere la continuous integration con azure devops e quindi facciamo il pari con questo che facciamo continuous integration con le github action. Faccio qui in alto a destra su github, faccio un import repository e vado a importare il mio repository già esistente che ho nel mio azure devops, faccio clone, viene dato l'indirizzo, è un repository pubblico quindi ci posso accedere senza problemi e ci può accedere anche il portale di github. Gli do lo stesso nome così vado bene e faccio un repository pubblico che chiunque può guardare. Preparing import e lasciamo che le importazioni lavori. Ok, importazione completata, faccio FenixEat a minicorso, perfetto, e qui c'è tutto quanto. Ok, a questo punto vado a creare la action, ma prima, o meglio vado a creare il workflow che è composto di action, ma prima li devo attivare perché qui non compare la scheda delle actions. quindi vado su settings, actions, general e mi assicuro qui di scegliere tutte le azioni e i workflow riutilizzabili. Mentre se io scegliessi queste altre informazioni, opzioni, potrei utilizzare solo dei workflow che ho definito all'interno della mia organizzazione e che ho battezzato come sicuri. siccome lo scopo qui è andare rapidamente e riutilizzare workflow già pronti, voglio fare allow all actions. Mi raccomando, io ci sono rimasto incastrato un paio di volte agli inizi, fare save. Così in grigino non lo vedevo e mettevo l'opzione e poi mi beccavo degli errori più tardi. quindi save. Ecco, così si vede il pulsante per le actions e le posso andare a configurare. Mi prendo questa qui perché lui ha già analizzato il mio repository e vede che molto probabilmente mi può andare bene questa workflow già fatto da GitHub Actions, quindi da GitHub in sé, per i progetti .NET. Il mio è un progetto .NET, è un Hello World, ma va bene così. Faccio configure e lui mi propone questa workflow che si chiama .NET, che parte su nuovi commit nel branch main, c'è un trigger, oppure quando si chiude una pull request su branch main. I jobs, quindi la serie di step, di azioni che andiamo a fare con delle action concrete, vengono eseguite su, vabbè c'è un job che si chiama build, vengono eseguite su una macchina Linux, Ubuntu, ultima versione, dovrebbe essere la 22, che cosa viene fatto? Viene fatto un checkout, mi sta bene, viene configurato il .NET alla versione 6, mi va benissimo, dobbiamo fare un restore dei pacchetti, eventualmente utilizzati dal mio progetto, una build e un test perché nel continuous integration, da teoria, dobbiamo eseguire anche le suite di test automatici, tipicamente unit test. Allora, questo mi sta tutto bene, tranne che molto probabilmente qui ci beccheremo degli errori, ingrandisco, perché lui girerebbe, il contesto con cui gira questo runner è nella root delle repository. Ora, il mio sorgente non è in radice, ma è dentro src, src, andiamo ad aprirlo qua, src, src, sensore calc, sln, allora io vado qui e mi faccio dare copypath, così ho il percorso, e qui basta dire working directory, quindi per impostare il contesto del .NET restore, questo lo pulisco, non mi interessa, così, no, mi prendo l'intera riga, così, e poi metto working directory anche su questo. Ecco, quindi abbiamo impostato per tutti i comandi del .NET che devono lavorare nella cartella src, console calc, dove c'è la solution che guida tutta la configurazione del progetto. Bando alle ciance, start commit, salviamo, ora dovremo partire come dei fulmini. Andiamo nella sezione actions, l'apri in una scheda pulita, abbiamo che il workflow è partito immediatamente perché si è accorto di una modifica sul branch main, come impostato nei trigger, andiamo dentro, vediamo che è partito il job chiamato build, che fa esattamente quello che gli abbiamo detto, quindi eseguire il, fare il checkout dei sorgenti, configurare il .NET, ripristina le dipendenze, fa una build e esegue la suite di test automatizzati. Perfetto, abbiamo un errore, era quello che mi aspettavo. Perché abbiamo un errore? Perché nei miei sorgenti effettivamente c'è un errore. Se noi andiamo a vedere, lui ci dice che un, ha trovato questi test e abbiamo dei failure. Sostanzialmente lui ci sta dicendo che il, la calcolatrice, quando il test somma interi, se addendo positivo, restituisce una somma, si aspettava come risultato due, abbiamo restituito zero. Quindi vuol dire che nel sorgente c'è un errore. Lo andiamo a correggere, così rivediamo il trigger scattare e vediamo proprio un uso pratico di continuous integration con trigger che mi dà un feedback immediato, se per caso da developer ho fatto un errore e mi sono dimenticato di testare. Andiamo a vedere la calcolatrice. Ok, andiamo a vedere cosa potrebbe essere c'è di sbagliato. Beh, in un metodo somma interi fa in realtà una sottrazione. Quindi andiamo a modificarlo al volo. Ci metto un più qua. A questo punto la action dovrebbe ripartire immediatamente perché si è accorta del trigger e infatti ci siamo. Andiamo di nuovo a vedere quello che succede cliccando sempre per entrare. Ok, abbiamo setup.net. Dovremmo essere abbastanza veloci. Restore dependencies non ce ne dovrebbero essere, per cui tira diritto veloce. Perfetto, c'erano solo quelle per gli ambienti di test. Va bene, siamo arrivati al nostro test. PIL succeeded, test tutto verde. Abbiamo eseguito continuous integration con un workflow di GitHub. Con la GitHub Actions per oggi ci fermiamo qui. Ti metto in descrizione il video fratello con la continuous integration per Azure Pipeline dove andiamo a fare più o meno le stesse cose e vedrai nascere questo progetto. Ciao, alla prossima!